E' un sibilo insopportabile per chi abita qui, vicino alla centrale elettrica di Cararafano, oggi interessata anche dalla realizzazione della stazione di conversione dell'Adriatic Link, voluta da Terna. La società che gestisce la rete elettrica nazionale ha già effettuato delle rilevazioni nell'area, stabilendo che i valori dei campi elettrici e quelli magnetici sono al di sotto della normativa prevista, una delle più restrittive al mondo. Ora si attendono quelli sull'inquinamento acustico, lamentato dai residenti, che ieri hanno affisso striscioni chiedendo meno bugie e più fatti. Basta rumore, hanno scritto, la salute è un diritto, rispettarla è un dovere e ancora via i tralicci, facciamo i seri. I cittadini infatti si appellano al sindaco affinché venga istituita una commissione tecnica che valuti l'impatto che avrà la nuova centrale in più, si dicono pronti anche a scendere in piazza. È un tema vero di preoccupazione, su questo sono alcuni elementi, fra l'altro devo dire ci sono stati una serie di incontri, noi ci siamo presi in impegno che qualsiasi passaggio era fatto in condivisione con i residenti, con il comitato, fra l'altro anche negli ultimi 15 giorni ci sono stati due incontri con Terna, due venerdì consecutivi dove hanno partecipato anche i due rappresentanti, perché così siamo nella massima trasparenza, nel massimo coinvolgimento, perché le scelte vanno fatte insieme. Un primo elemento, vorrei anche dire che si parla di tralicci, queste cose, li ho trovati anch'io, non è che li ho portati, è una materia governativa dove si passa sopra le volontà dei comuni, per questo va detto, va spiegato. Detto questo noi sul pezzo ci stiamo perché è giusto, c'è una preoccupazione, c'è un elemento vero, qui sono due questioni. Una prima questione è l'esistente, l'esistente che ha un problema, quello del rumore, che va risolto senza se e senza ma. Tant'è, ha proseguito il sindaco, che ci sono stati anche degli esposti oltre ad una corrispondenza con ARPAM, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Qui delle lettere dal primo, la prima il 7 gennaio, la seconda il 14 gennaio, poi a marzo e l'ultima è del 23 di questo mese, quindi tutte antecedenti fra l'altro anche a questa manifestazione, ma al di là, ma io dico fanno anche bene perché vanno, questi temi vanno sempre tenuti, vanno sempre richiamati, quindi benissimo, è un aiuto anche per noi. Poi Seri è intervenuto sulle verifiche effettuate. I campo magnetico sono arrivati, i risultati sono tutti sotto la norma, mentre sul rumore non ci sono tornati indietro quelli fatti da Terna, ma noi abbiamo chiesto anche, si aspettava questo esito, questa verifica che era stata fatta una prima analisi, poi altre due da sette giorni l'una, in cinque abitazioni quelle più vicine, quindi dove c'è il rumore che ha una sua maggiore efficacia. Comunque per quello che mi riguarda, a prescindere dall'esito il rumore c'è perché lo si sente e quindi va eliminato. Per migliorare la situazione Terna ha già fatto sapere che nei prossimi mesi verranno sostituiti alcuni macchinari già arrivati al porto di Ancona per un investimento di oltre 5 milioni di euro. Intanto il sindaco si porta avanti. Infatti, ha detto Seri, abbiamo chiesto anche ad Arpam di eseguire dei rilievi e attendiamo di sapere quando verranno effettuati. Sulla nuova stazione invece ha ricordato la petizione, garantendo ai cittadini il massimo coinvolgimento. Entro un paio di settimane riceveranno una comunicazione per un nuovo incontro. Alla fine è il sindaco che deve firmare l'eventuale convenzione e questa la si farà soltanto dopo averla concordata. Ma ad oggi non c'è nulla di nuovo, non c'è nessun progetto vero e questo quindi anche dall'ultimo riunione non c'è un elemento di novità. C'è stata una richiesta di istituire una commissione, nulla osta, anche su questa adesso devo dire fra l'altro martedì prossimo c'è una giunta, cercheremo di ragionare anche sul metodo, quindi nessun problema perché noi siamo da questa parte. Tutti questi elementi sono monitorati. Comunque ci teniamo aggiornati strada facendo.